Tchaikovsky era un compositore di personaggi femminili. Era una persona straordinariamente sensibile ed i conflitti, le paure e i sogni delle sue eroine lo toccavano profondamente e lo ispiravano a scrivere i suoi più grandi capolavori. Nella sua musica, ad esempio, si chiamavano Titiana, Aurora o Giulietta. Come Wagner, qualche anno prima Tchaikovsky fu salvato nella sua crisi esistenziale da un mecenate comprensifo e in brevissimo tempo si trasformò da candidato al suicidio in un celebre compositore di successo. Ma le paure per la perdita dell'infanzia, l'omosessualità vietata, la salute debole e le crisi artistiche lo accompagnarono per tutta la vita, lo resero un uomo combattuto, ma lo spronarono all'eccellenza artistica e grafico dall'artista russo del secolo. Il padre Ilia era un ingegnere e grazie alle sue efficienze divenne per un certo periodo un ricco direttore di fabbrica. La moglie Alexandra, di 17 anni più giovane, era l'essatto contrario. Era sensibile e musicale. Peter aveva un ottimo rapporto con entrambi, ma il rapporto con la madre era la cosa più sacra per lui. Peter Ilich Tchaikovsky nacque il 25 aprile 1840 nel villaggio di Votkinsk. Nacque in un maniero negli Urali dove il padre era direttore di una fabbrica. Peter aveva cinque fratelli, tra i quali il rapporto più stretto fu quello con Modest, di dieci anni più giovane per tutta la vita. All'età di cinque anni un'altra importante persona di riferimento femminile apparve nella sua vita. Si tratta di una tata proveniente della regione francese dell'Alsazia, che si prendeva amorevolmente cura dei bambini e li istruiva. Fu alle dipendenze dei Tchaikovsky per quasi cinque anni e agli appunti di Fanny Durbach dobbiamo molti approfondimenti sul carattere di Peter. Lo descrisse come un bambino ipersensibile che poteva essere sviato dal minimo rimprovero. Oltre all'amore per la musica, spicava quello per la letteratura e lei lo chiamava affettuosamente il mio piccolo Pushkin. Tchaikovsky rimase in contatto con lei per lettera per tutta la vita e le fece visita nella sua casa in Alsazia un anno prima delle sue morte. Peter dimostrò un grande talento musicale fin da piccolo. Era in grado di suonare canzoni dopo averle ascoltate per la prima volta all'età di cinque anni e ben presto suonò meglio del suo insegnante di pianoforte. Gli piaceva particolarmente un'orchestrina in grado di suonare melodie d'opera popolari. Lo stesso Tchaikovsky ha riferito che questo strumento fu la ragione del suo amore per la musica di Mozart che durò tutta la vita. Quando i genitori si trasferirono a San Pietroburgo decisero di mandare il bambino dieci anni in collegio. Decisero di mandarlo in una scuola preparatoria per un prestigioso istituto che insegnava diritto amministrativo ai futuri funzionari pubblici. Peter non era pronto e in seguito descrisse l'esperienza come traumatica mentre cercava disperatamente di aggrapparsi alla madre. Si distrasse visitando le grandi istituzioni musicali di San Pietroburgo dove ascoltò per la prima volta brani con l'orchestra ed entrò in contatto con la musica di Glinka. Anche una visita al baletto Giselle gli fece una grande impressione. Il suo compagno abituale era Modest Vakar, un amico della famiglia, ma poco dopo una secondo catastrofe lo colpì quando durante una visita a Vakar contagiò con il collera il figlio di 5 anni di Vakar che morì poco dopo. Scosso, Peter si incolpò della morte del bambino di 5 anni al capezzale del morto. L'educazione di Tchaikovsky nel collegio maschile si concentrò sulla legge ma gli furono insegnati anche la letteratura e la musica. Quando Peter aveva 13 anni il futuro poeta Alexei Apuchin frequentava le stesse classe e divenne il suo migliore amico. Ben presto Peter si rese conto della sua omosessualità e trovò in Alexei una persona che la pensava come lui. I due condividono anche l'amore per la letteratura. Ma la catastrofe successiva si abatte presto su Peter. Sua madre Alexandra morì di collera nel 1854. Anche suo padre fu contagiato ma scampò per poco la morte. Peter perse la persona più importante della sua vita e Tchaikovsky lamentò questo destino per tutta la vita. Il padre di Tchaikovsky assunse il pianista tedesco Rudolf Kündinger come insegnante del figlio. Mentre la formazione di Tchaikovsky come amministratore volgeva al termine il padre vuole sapere se il figlio avesse il talento musicale per studiare musica. Kündinger si pentì amaramento del suo giudizio perché disse al padre non ha talento musicale, non è adatto alla carriera musicale ed è troppo tardi per iniziare. Su consiglio del padre Tchaikovsky decise di intraprendere una carriera a due velocità e di studiare musica mentre si guadagnava di vivere come impiegato statale. Al conservatorio Anton Rubinstein più anziano di dieci anni e non ancora famoso divenne la persona di riferimento più importante. Visto l'evidente talento di Tchaikovsky Rubinstein lo esortò a studiare a tempo pieno cosa che Tchaikovsky fece dopo due anni. Nonostante il suo talento durante il periodo di conservatorio non fu scritta alcuna opera importante. Al contrario l'attesi che gli fu assegnata divenne un grande delusione per i suoi insegnanti. L'inno alla libertà di Schiller che doveva essere musicato non riuscì a toccare le emozioni del sensibile Tchaikovsky. Invece di comporre per un'anima femminile in uno stato estremo dovette comporre per un ideale astratto. Cosa che non riuscì a fare. Lui stesso ne era consapevole ed evitò di partecipare al concerto finale per evitare l'ignominia. Il conservatore di San Pertesburgo era in gran parte gestito dai fratelli Rubinstein. Sul consiglio di Anton Nikolai Rubinstein offrì al 26enne Tchaikovsky una cattedra. Quest'ultimo accettò e Nikolai Rubinstein divenne uno dei suoi più stretti compagni artistici. Allo squadrinato Tchaikovsky fu persino concesso di vivere con Rubinstein, direttore del conservatorio, per un periodo più lungo. Questi dieci anni divennero anni in cui Tchaikovsky cercò la sua posizione come artista e come persona. Nella sua ricerca artistica entrò in contatto con il gruppo dei cinque. Provò molte cose, ne rifiutò molte, come le tre opere che considerava tentativi falliti. Balakirev in particolare fu un mentore che gli diede consigli e sostegno. Lo incoraggiò a scrivere l'ouverture fantastica Romeo e Giulietta. Nel corso di questo processo non esitò a far uscire Tchaikovsky dal suo riservo con critiche severe. Trovò difetti in quasi tutto, ma vide anche che il motivo d'amore, la prima grande e vera melodia d'amore di Tchaikovsky, era il primo grande pensiero artistico a cui il personaggio di Giulietta lo aveva ispirato. Negli anni della giovinezza Tchaikovsky sentì la sua omosessualità come un elemento di separazione della società. Ne soffrì molto, ma riuscì a viverla in parte in segreto. Nella corrispondenza con il fratello Modest, anche gli omosessuali, Tchaikovsky scriveva apertamente del suo stile di vita. All'età di 28 anni gli accatte qualcosa di soppredente. Si innamorò per l'unica e l'ultima volta di una donna. Si trattava di una nota cantante francese di nome Desiree Artaud. Era persino pronto a sposarla, ma l'ambiente in cui viveva impedì la relazione e Desiree sposò un altro due mesi dopo. A testimonianza della relazione esistono cinque romanzi che egli aveva scritto per la cantante. Nella sua carriera scrisse più di cento romanze, che furono il suo personale laboratorio didattico per le forme più appie. Cercava sempre di filtrare il motivo psicologico dominante nei testi lirici e di trovare l'espressione musicale corrispondente, che diventava la base per la composizione. Linda Farot Tchaikovsky lavorò in questi anni anche come giornalista. Nei suoi viaggi incontrò l'elite musicale europea e partecipò al primo festival di Bayreuth nel 1876. Si espresse in modo poco losinghiero sull'opera di Wagner. Secondo le sue stesse dichiarazioni, la sua esperienza più bella di quest'anni fu la Carmen de Bizet, di cui fu testimone della prima. A metà degli anni 70, Tchaikovsky si trasformò da brutto anatrocolo in cigno. Due immortali colpi di genio sono letteralmente esplosi da lui. Il primo colpo fu il suo primo concerto per pianoforte. È vero che il suo menteore, Anton Rubinstein, gli aveva solo gritato contro il disprezzo per l'opera quando l'aveva recensita. Ma Tchaikovsky era maturato e lo offrì a Hans von Bülow, che lo eseguì con grande successo a Boston nel 1875. Rubinstein rivede la sua opinione sul concerto e dà inizio alla sua marcia trionfale in Europa. Il secondo colpo di genio, improvviso, fu il baletto Il Lago dei Cini. Alcuni colleghi musicisti avevano sconsigliato a Tchaikovsky di comporre musica per balletto. Nikolai Rimsky-Korsakov riteneva che fosse un'impresa indegna del talento di Tchaikovsky. Ma lui aveva una predilezione per la musica da ballo, che per lui significava la possibilità di scrivere musica lontana dal rigido formalismo della sinfonia e del concerto e di immergersi in mondi da sogno. Il tema del cigno malinconico, che in seguito acquisì un significato inconico per il genere del baletto, divenne un simbolo di questo. Lo scrisse per il teatro Bolshoi di Mosca. Le sue risorse non erano paragonabili a quelle del teatro di San Petroburgo. E cosa inconcepibile per noi, l'opera tirò poca attenzione e Il Lago dei Cini divenne un baletto di successo, solo con la produzione petroburghese di Petipa del 1895. Nel 1877 Tchaikovsky scrisse il suo Onegin, il cui culmine è la scena della lettera in cui una giovane donna inesperta scrive una lettera d'amore al mondano Onegin e viene ignominiosamente respinta dall'organte Bonvivant. Tchaikovsky soffre con lei. Ciò che seguì è ben noto. Un ex allieva, Antonina Ivanovna, gli scrive più volte, gli confessa il suo amore e chiede un incontro. Antonina divenne Tatiana per Tchaikovsky e il sensibile compositore non poté evitare un incontro. Nonostante fosse nel bel mezzo di una relazione sentimentale con il suo ex allievo Kotech. Ora Tchaikovsky vede in Antonina la possibilità di fingere un'esistenza borghese al mondo esterno per mettere a tacere i fastidiosi guardani della morale. Antonina accettò questo accordo e i due organizzarono il matrimonio in gran fretta e in segreto nell'estate del 1877. I testimoni furono il fratello di Tchaikovsky Anatoly e Josef Kotech. Il matrimonio lo portò fuori strada. La relazione con la donna gli creò una versione fisica tale che dopo pochi giorni si affrettò a lasciarla per sempre. Seguì un esaurimento nervoso e Tchaikovsky andò persino nella Moscova in inverno per prendere una polmonite nell'acqua gelida. In questa situazione drammatica ricevette una lettera da una donna ricca, vedova e appassionata d'arte. Si chiama Nadescha von Meck e aveva sentito parlare di Tchaikovsky da Josef Kotech, che quell'estate era l'insegnante di violino delle sue figlie. Sarebbe diventata la sua mercenate e amica di penna per i successivi 14 anni. In realtà, durante tutto il periodo della corrispondenza, ci furono solo sporadici e fugaci incontri a distanza, durante i quali non ci si scambiava una parola. Questi incontri esercitavano una strana attrazione sui due, che di tanto in tanto si divertivano a sentire la vicinanza dei rispettivi amici di penna. Ma non si arrivò mai a un incontro. L'improvvisa sicurezza materiale fece esplodere l'energia creativa di Tchaikovsky. In pochi mesi scrisse tre opere immortali. Nei primi mesi terminò Eugenio Onyegin e la Quarta Sinfonia. In primavera trascorse mesi felici sul lago di Ginevra con l'amico e violinista Josef Kotech, scrivendo il suo grande concerto per violino. Negli anni successivi Tchaikovsky viaggiò molto, soprattutto in Italia. Divenne una celebrità internazionale e diresse concerti molti abbrezzati anche negli Stati Uniti. A metà degli anni Ottanta sentì il bisogno di stabilirsi di nuovo. Il mondo della musica di oggi è felice che l'abbia fatto, perché ciò che accadde dal 1888 in poi è mozzafiato. Nei suoi ultimi cinque anni di vita regalò ai posteri un capolavoro immortale ogni anno. Ispirato dalla collaborazione con il grande coreografo Marius Petipa, Tchaikovsky scrisse i due balletti La bella addormentata e Lo schiaccianoci per il teatro marinski di San Petriburgo. Anche in questo caso furono i personaggi femminili a ispirargli le melodie immortali. Tchaikovsky cercò deliberatamente l'isolamento rurale e si trasferì a Klin, una piccola città rurale a nord di Mosca. Le passeggiate quotidiane nella natura intorno al vicino fiume Sestra stimolavano la sua creatività. Negli ultimi anni di vita il fratello Modest e il nipote Vladimir Davidov furono i suoi compagni più stretti. Vladimir, detto Bob, era anche egli omosessuale e divenne il principale erede e destinatorio della dedica dell'ultima sinfonia di Tchaikovsky. Nel periodo che circonda il lavoro sulla dama di Picche si verificò una frattura tra Tchaikovsky e la baronessa von Meck senza preaviso. La mencenate interruppe la corrispondenza e sospese tutti i pagamenti. Dopo la sua morte si è ipodizzato che ci fosse un legame con il ruolo della contessa nell'opera della dama di Picche. In questa grande opera infatti Tchaikovsky dipinge un'immagine poco lusinghiera di un'anziana signora con la figura della contessa. È possibile che la baronessa si sia sentita tradita e ridicolizzata? La patetique divenne la sua ultima opera, eseguita in prima assoluta solo nove giorni prima della sua morte. L'ultimo movimento lento dei soli 53 anni ricordava un requiem e citava il motivo di una messa di requiem russa. Aveva previsto la sua morte? Cinque giorni prima di morire Tchaikovsky beve l'inquittante bicchiere d'acqua nel ristorante di Leiner, anche se il cameriere lo informò che non era disponibile acqua bolita necessaria a causa del colera dilagante. Si recca quindi nell'appartamento di Modest e non la lascerà mai più, morendo il 6 novembre 1893. Molti libri sono stati scritti sul mistero della sua causa della morte di Tchaikovsky. Fu il bicchiere d'acqua con cui si era involontariamente infettato con il colera che dilagava a San Pietroburgo? O fu un tribunale d'onore al cui verdetto si era piegato e aveva ingerito l'arsenico? Oggi l'opinione prevalente è che si tratti della prima ipotesi. L'edificio in cui morì esiste ancora. La sua camera mortuaria può persino essere prenotata come suite Tchaikovsky in un hotel chiamato Tchaikovsky House. All'epoca era l'appartamento del fratello Omotest. Nella foto si vede la stanza della morte incornichicciata in blu. L'applicazione di Tchaikovsky avvenne a San Pietroburgo nella magnifica cattedrale di Kazan. Il cordoglio fu enorme. 60.000 persone richiesero i biglietti e lo zar pagò personalmente le spese del funerale. La sua tomba si trova nel cimitero di Tichvin, vicino al monastero Aleksandr Nevsky. Vicino a lui riposano anche Aleksandr Borodin, Mikhail Glinka, Rimsky-Korsakov e Modest Mussorgsky. Così i cinque grandi compositori russi del XIX secolo hanno trovato un luogo di riposo comune e dignitoso a San Pietroburgo.